Cari ascoltatori di RTA VideoTaro, buonasera dalla vostra Ateneggina e benvenuti alla finale di X-Taro 2016. Quest'anno c'è un premio che è un premio tangibile, la realizzazione di un brano più il videoclip. Quindi noi stiamo cercando il personaggio che abbia l'appeal giusto per risultare poi alla fine un prodotto commerciale vendibile. Grazie a tutti. Con il loro inedito, Marta e Martina. You're my chamber of reflection And I pure my soul Lost my eyes Dantyte Is dissolved on this baby Sometimes still hurts But I swear I don't care Till the tears will leave me Yeah that's true I smoke I'm drunk And blue Na 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 Shrinkin' in my show mouth Poi ti ritrovo qui Puntuale al posto tuo Tu spettatore vuoi Davvero Io vivo il sogno che Non osi Vivere te Dicevo Abbiamo qui con noi Un'amica Finalista di X-Taro Per due volte Lei è Vanessa Berni Buonasera Vanessa Ciao Vanessa Ciao I'm titanio I'm titanio A stone high Machine guns Firing out the ones Who rise A stone high Like on a broke glass You shoot me down, but I won't fall I am titanium You shoot me down, but I won't fall Cause I am titanium You shoot me down, but I won't fall I am titanium You shoot me down, but I won't fall I am titanium Grazie